Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre, benvenuti in questo video. Questo sarà un video un po' particolare, ancora non ho idea di che titolo andrò a mettere, probabilmente sarà uno di quei titoli che additerete immediatamente come clickbait, però pazienza, fatevene una ragione, in fondo quel che dirò andrò a motivarlo, si tratta della mia esperienza e sono anche sicuro che rispecchi perfettamente l'esperienza di tante altre persone. Allora, cominciamo con un breve sponsor, diciamo che questo video è sponsorizzato da Tutto su Linux. Cos'è Tutto su Linux? Tutto su Linux è una nuova piattaforma appunto sul sistema operativo GNOLinux, è su software libero, abbiamo un sito web, quello che vedete qua, ed un forum. Lo scopo è aggregare diversi autori, diversi utenti, creare una community e quindi aggregare diversi contenuti su GNOLinux e il software libero. Vi consiglio assolutamente di leggere l'articolo top 30 comandi da terminale su Linux, il nostro ultimo articolo. Vedrete che è molto ben fatto, già solo nell'indice vedrete una brevissima spiegazione su ciò che ogni comando fa e se cliccate su ognuno di questi link ovviamente vedrete più dettagli e non troverete mai né troppo né troppo poco, troverete per ogni comando assolutamente il giusto, assolutamente gli esempi più comuni di come vengono utilizzati questi comandi. E poi si tratta di 30 comandi, non 1000 ma nemmeno 2. Insomma, su questo articolo avrete veramente il giusto per imparare, per avere tutto ciò che vi serve sul terminale. Se già sapete usarlo, il terminale, beh, vi consiglio ugualmente la lettura, scommetto che sarà una lettura piacevole e leggerete l'articolo tutto d'un fiato. Bene, cominciamo. Allora, di cosa parleremo in questo video? Beh, il tema è l'affermazione che si sente spesso dire Windows è facile, GNU Linux è difficile, sempre e comunque, quindi impossibile per comuni mortali nonostante esistano diverse distribuzioni GNU Linux adatte a principianti assolutamente facili da installare e da utilizzare. Allora, questa affermazione che Windows sia facile e Linux assolutamente no si scontra duramente con quella che è la mia esperienza e sicuramente con l'esperienza di tante altre persone di che tipo di persone sto parlando? Di persone che utilizzano esclusivamente il sistema operativo GNU Linux da molti e molti anni lo utilizzano a casa loro, possibilmente anche sul lavoro o quantomeno non hanno bisogno sul lavoro di utilizzare Windows per cui quelle poche volte che ci si ritrova per caso davanti ad un computer Windows ci si trova un po' spaesati e quell'affermazione, Windows è facile, Linux è difficile diciamo che se la prendi per buona ti dà l'aspettativa ti dà delle aspettative che poi verranno deluse nel senso che ti ritrovi a non saper fare delle cose su Windows nonostante questo sia facile mentre quelle stesse cose su Linux le faresti molto facilmente e più velocemente quindi che sia tutta una questione di abitudini nel senso che non c'è un sistema operativo più facile di un altro è solo una questione di abitudini comunque vi racconto un po' la mia esperienza ovviamente anch'io utilizzo esclusivamente GNU Linux da tantissimi anni dal 2008, se non ricordo male quindi un sistema Windows non lo vedo mai, quasi mai recentemente mi sono trovato davanti ad un computer Windows che credo sia Windows 10 quantomeno l'interfaccia grafica era simile a quella che vi sto facendo vedere si trattava del computer di una persona molto giovane ma nonostante la giovane età non è una persona abbezza di tecnologia il mio compito doveva essere aiutarlo aiutare questo giovane ragazzo a trasferire delle immagini da una vecchia videocamera al computer cosa che poi abbiamo scoperto essere anche impossibile vi spiegherò il perché comunque tutti si aspettavano da me di trovare un esperto che sappia fare qualunque cosa al computer no? perché uso GNU Linux che è più difficile eccetera eccetera in realtà davanti a questo computer ero totalmente impacciato perdevo un sacco di tempo per trovare delle cose per svolgere delle operazioni alla fine non complicate ma quindi questo vi dico se continuiamo a dire che Windows sia facile poi un linuxiano di vecchia data magari se prende per buona questa affermazione va a crearsi delle aspettative che verranno deluse perché Windows poi non lo troverà così facile come viene detto allora mi sono seduto davanti a questo pc abbiamo collegato questa vecchia videocamera al che abbiamo sentito un audio per cui Windows si è accorto che abbiamo collegato la videocamera è comparsa qua anche una notifica in basso a destra poi la notifica è scomparsa e già l'ho perso del tempo per cercare di capire dove fosse presente questa videocamera dove fosse riconosciuta da Windows la videocamera quindi ci ho perso un po' di tempo per capirlo l'interfaccia secondo me così intuitiva non è ora io non sto criticando non mi interessa criticare Microsoft Windows questo prodotto né chi lo usa con soddisfazione il punto di questo video è semplicemente Windows è più facile? beh non lo so forse è tutta questione di abitudini Linux è difficile? boh non lo so forse lo era in passato adesso non più? va bene continuiamo poi non trovandola qua anche per suggerimento di una terza persona abbiamo cliccato sul menu e abbiamo cercato su come si dice sulle risorse del pc anche la quindi ci ho perso un poco perché non trovo assolutamente intuitiva questa interfaccia non so perché ma è così problema mio probabilmente per carità anche avere diverse finestre aperte contemporaneamente su Windows boh mi manda un po' in confusione sarà tutta solo una questione di abitudini no? dopodiché altro tema il browser non ho fatto caso che browser internet fosse installato ma cercavo di aprire più pagine contemporaneamente e non sapevo muovermi tra un tab e l'altro problema mio sicuramente magari qualcuno potrà immaginare di che browser sto parlando io non ho fatto caso se quale fosse va bene allora questo dovrebbe essere un video brevissimo ditemi un po' cosa ne pensate è vero che Windows è più facile perché? spiegatemelo l'unica cosa è che Windows praticamente te lo trovi quasi sempre preinstallato quindi non devi fare lo sforzo di installartelo tu mentre GNU Linux solitamente lo devi installare tu per il resto esiste Linux Mint esiste Zorin OS esiste non so Ubuntu eccetera quindi delle distribuzioni che sono assolutamente facili da utilizzare forse anticamente Linux era difficile adesso non lo è più va bene a proposito questa stessa persona che voleva il mio aiuto questa persona quindi non tanto avvezza di tecnologia gli ho fatto vedere delle distribuzioni GNU Linux del tipo Ubuntu Linux Mint Elementary OS e qualcun'altro adesso non ricordo nemmeno più e lui invece si riusciva a muoversi nell'interfaccia grafica non è che abbiamo fatto chissà quali grandi cose però lui riusciva a muoversi e sicuramente più velocemente di come muovo io su Windows quindi boh non lo so gli ho chiesto ma come ti sembra ti sembra difficile GNU Linux? no ma è facile è molto facile quindi boh ditemi un po' cosa ne pensate voi ok il video è finito vi ricordo di andare sulla piattaforma Tutto su Linux quindi tuttosulinux.it oppure forum tuttosulinux.it mi farebbe veramente piacere se facciamo crescere questa comunità nel più breve periodo possibile nel periodo di tempo possibile iscrivetevi a forum e ci vediamo là ciao ciao da Clarintux